Grazie a tutti. La neve lì non la vedo più dall'inverno dell'86. 85. 85 e anche 86, i primi mesi furono notevoli. Non sto scherzando, la neve è uno dei grandi, tanto che poi ho pensato anche al libro intitolato proprio Neve di Oran Pamuk, che è uno dei suoi più belli. Questa neve metafisica che percorre il libro, è un libro pieno di neve. L'hai percepita di persona, te la sei reinventata su Ricordi Lontani, sull'Apenino Parmese viene ancora tanta neve, tu vai a correrci in mezzo e poi la metti nei tuoi romanzi? Sì, ci hai preso, perché non sei… No, intanto devo dire che io amo molto la neve, vado controcorrente perché ne ci ho piatto da tutti, ma strane che dagli albergatori… E poi sì, è la mia esperienza, io ho un imprinting, anche se sono poi sempre cresciuto in città, ma in realtà il mio vero luogo dell'anima è l'Apenino. E quindi queste camminate nella neve, questa neve che annulla tutti gli spingoli, arrotonda tutto e soprattutto ti dà quell'atmosfera di… Nella neve si sente meno, oppure i suoni sono accutiti, c'è una sensazione che è difficile spiegare, ma è quasi, come dire, un ascolto ovattato, come essere in una camera di registrazione, quelle che una volta vanno tutte le scatole delle uova attaccate per fare da isolante, no? Ecco, questa sensazione che è veramente particolare. Poi mi piace molto della neve quando in qualche modo annulla l'orizzonte, no? Quando tu guardi una collina e il cielo è bianco e la collina è bianca, tu non sai dove finisce la collina e dove comincia il cielo. Questa è una dimensione che io amo molto e che ti fa sentire in una tridimensionalità quasi. E poi sì, mi piace correre nella neve. Una delle cose più… No, io non so usare le ciaspole, ma l'inverno quando vado… Io ho questa passione per la corsa, quindi mi corro in collina e poi una delle cose che mi piace di più quando c'è la neve abbastanza alta è uscire dalla strada e darmi giù dal pendio correndo nella neve, perché in quel modo tu sei quasi sempre come sospeso, no? Perché la neve è morbida e tu rimbalzi nella neve e c'è questo rotolare e… Mentre senza neve tu prenderesti botte tremende, no? Invece in quel modo è come se corressi su un materasso e rimbalzassi ad ogni apposso, no? Quindi c'è questa dimensione, questa familiarità che mi ha sempre affascinato. Poi la neve, come dici tu, in pianura nelle nostre città è diventata un elemento molto raro, no? Mentre mi ricordo che ormai insomma ho una certa età, per cui quando mi ricordo al bambino che nevicava almeno dieci volte per inverno a Parma e veniva anche parecchia neve. L'ultima neve veramente consistente è stata appunto quell'inverno dell'85 e poi a seguire questa piccola glaciazione che abbiamo avuto. Però tutto assume una colorazione diversa, una atmosfera diversa e questo è che mi affascina, mi colpisce sempre. Quindi sostanzialmente è un'ammirazione ma è una di quelle cose che si introiettano da bambini e che poi ti ritornano come una sorta di fatto rimosso che poi però ritorna sotto altre sensazioni.